Grande serata all'Hotel Bernini di Firenze in occasione della degustazione della selezione dei migliori vini nell'ambito della manifestazione Great Wine Capitals. Abbiamo riunito qui le capitali più importanti del mondo del vino e per creare insieme un qualcosa che in questo momento serve, cioè una rete, una rete di collegamenti e di esperienze. Io credo che in nessun momento come adesso sia necessario parlare di quello che si fa, non soltanto farlo. Siccome noi abbiamo tante cose da raccontare, credo che una rete così possa essere molto utile. Crediamo sia molto importante alla fine fare il sistema non solo a livello locale come dovremmo fare come sistema toscana, sistema Italia, ma anche proprio a livello internazionale in nome dell'eccellenza. Great Wine Capital riunisce nove grandi territori del vino in tutto il mondo che hanno fatto dell'eccellenza il loro marchio di fabbrica. Tutti i consorsi, a partire dal consorzio Chianti, Colli Ferentini e noi siamo rappresentati e siamo molto grati alla Camera di Commercio. Ci dà questa opportunità soprattutto di farci conoscere noi così piccoli come piccola sottozona in tutte le maggiori capitali del vino del mondo. È anche un momento importante per noi produttori per capire che succede nel mondo, per capire come si evolve il vino e cosa fanno i nostri concorrenti in questi momenti di grande crisi. Siamo affascinati da questo mondo, però purtroppo siamo anche in grosse difficoltà, per cui queste manifestazioni ci servono per cercare di far conoscere i nostri vini, per cercare di farli da traino, per cercare di risollevarsi da questo momento di grossa crisi. È un grandissimo piacere essere qua presenti come città Firenze, quindi come cultura che si porta dietro Firenze e la Toscanità stessa, ma poi come Chianti di OCG, in questo caso come consorzio Vino Chianti e con le nostre sottozone, in questo caso rappresentate dal Chianti Rufina e dal Chianti Colli Fiorentini. Presenti tutte le nove capitali del vino. Questa mattina è un'opportunità fantastica, per vedere le persone vivendo nella storia del mondo e tutta la arte e la cultura. È incredibile che siamo tutti insieme qui, tutte le grandi capitali del vino. Questa mattina è un'opportunità fantastica, è un'opportunità fantastica, è un'opportunità fantastica. Questa mattina è un'opportunità, per poter i vini da le migliori regioni del mondo, inoltre Florence, in un ottimo settore, che è il Palazzo Bernini, in una città fantastica, come Firenze. Siamo molto felice di essere qui, perché è l'opportunità di trovare tutti questi vini, di partagere, di condividere con i passioni di vino. Grazie a tutti.